si ritorna qualche giorno dopo nel bosco e vabbè dai piccolino ancora non è ancora ripartita bene la nascita effettivamente è passato troppo poco però vabbè comunque piccolino si raccoglie eccolo qua vai sicuramente qualcosina ancora si trova sì come vi dicevo la nascita è partita a pochi metri dall'altro se ne trova qualcuno uno e due e vabbè si prendono anche se sono un po' piccolini mangiati comunque si prendono vede un po' mangiato lì si raccoglie anche questo di nascita tutti e due piccolini però meglio di nulla un altro piccolino un po' più grosso di quello allora capo come va? è un po' stanco ti faccio camminare? eh sì perché qui uno si fa i muscoli devi tornare un pochino più spesso qui con me allora ne ho trovato diglielo uno lì giù dove ci sei tu piccolino però ragazzi ammirate questo da lontano mamma che roba mamma che roba sta un po' invecchiando guardalo è lui in tutto il suo splendore e si raccoglie mamma che bello guardalo guardalo oh vedi te l'avevo detto guardiamo intorno stiamogli un'occhiata ancora che qui probabilmente si trovano capo iscriviti al canale